carissimi amici e amiche bentornati ad una nuova puntata del catechismo di san pio decimo e come tutti sanno ciclo di catechismo è particolarmente gradito che purtroppo a dei tempi al momento cadenzati un po forse troppo distanziati nel tempo come già detto in altre circostanze cercheremo piano piano di organizzare un po meglio il tempo che il signore ci mette a disposizione cercando di fare sempre meglio appunto allora in questo ciclo siamo arrivati la volta scorsa all'analisi del siamo nella sezione dedicata ai comandamenti che la seconda parte del catechismo e in particolare stiamo abbiamo fatto la volta scorsa lo spinoso e scabroso argomento del sesto comandamento quindi oggi ripartiamo dal settimo e poi l'ottavo poi il nono poi il decimo vediamo se riusciamo con questi comandamenti che sono abbastanza abbastanza facili perché il settimo e l'ottavo hanno diverse diciamo connotazioni anche da codice penale quindi il settimo specialmente almeno a livello teorico è presente abbastanza nelle coscienze delle persone anche se forse non in qualche dettaglio sfumatura che andremo a vedere seguiamo come sempre il testo con poi qualche piccolo commento riprendiamo che dal numero 203 siamo al settimo comandamento che dice così li leggo tutti sono tre numeri relativi al settimo comandamento e poi proviamo a eventualmente aggiungere qualche piccola parola di commento che cosa che ci proibisce il settimo comandamento non rubare il settimo comandamento non rubare ci proibisce di danneggiare il prossimo nella roba perciò proibisce furti i guasti le usure e le frodi nei contratti e nei servizi e il prestare mano a questi danni che ci ordina il settimo comandamento il settimo comandamento ci ordina di restituire la roba degli altri di riparare i danni colpevolmente arrecati di pagare i debiti e la giusta mercede agli operai chi potendo non restituisce o non ripara otterrà perdono anche se a parole si dichiari pentito ehi amici cari ogni volta che leggo queste cose ho dei piccoli sussulti di congolamento interiore perché il grande San Pio X molti di voi sanno e tra chi sta seguendo la diretta non pochi e non anche presenti a quello che vedo e siamo appena reduci dal da uno splendido pellegrinaggio sulle orme di San Pio da Pietro del Cina voi pensate che San Pio da Pietro del Cina di San Pio X disse queste parole e lui per un certo tempo ha vissuto perché è nato nel 1887 quindi San Pio X mi sembra che è diventato Papa nel 1903 o nel 1904 sì credo quindi Padre Pio aveva 15 anni quindi se lo ricorda e lui diceva di San Pio X non è da quando esiste il ministero petrino non è mai non si è mai seduto sul soglio di Pietro un Papa più santo di lui quindi l'autorità di di San Pio da Pietro del Cina relata refero ecco poi certamente come si dice ai posti l'ardua sentenza e soprattutto addio il giudizio però quello che ha fatto San Pio X per quanto mi riguarda con il catechismo con la lotta lui è riuscito fino a quando c'è stato lui a stroncare il maledetto modernismo che adesso ormai ha ripullulato e infesta e appesta dappertutto fece le grandi riforme liturgiche consentì la comunione ai bambini molto piccoli inaugurò incoraggiò la comunione frequente anche quotidiana queste sono solo alcune delle cose che ha fatto San Pio X meravigliose insomma solo per aver scritto il giuramento antimodernista secondo me è già santo però ecco solo per aver fatto quella cosa è proprio santo subito allora volevo far subito notare una cosa domanda avete sentito parlare in questo settimo comandamento delle tasse per esempio perché molta gente pensa che il discorso delle tasse sia un discorso del settimo comandamento ma non lo è avete sentito dire soltanto una parola sulle tasse non è un discorso di settimo comandamento perché le tasse secondo la dottrina la sana dottrina cattolica che tra l'altro attenzione qui tutti quanti questi comandamenti se uno li va a ripercorrere delle tasse non si parla proprio quindi se non indirettamente perché l'argomento tasse è di quarto comandamento cioè il potere che hanno i superiori a noi in autorità di darci delle norme perché le tasse si pagano per legge e la legge viene emanata e ci vincola da chi è superiore rispetto a noi però come ben sappiamo il potere dell'autorità su di noi è strettamente legato alla giustizia perché non possiamo non ci possono chiedere più di quello che noi possiamo o dobbiamo dare sull'argomento tasse ci sono tanti casi limite no io so di situazioni per esempio che questo tanto per farvi capire no se tu c'è una persona che ti dice guardi padre io ho un esercizio commerciale lavoro solo io ovviamente il locale è in affitto ci sono le spese e c'è una famiglia da campare con il regime fiscale che ci sta adesso se io scrivo tutto chiudo perché se no riesco a pagare le tasse e le spese non mi ci avanza niente per me io non rispondo a questa domanda perché è una domanda retorica domando a voi che cosa bisogna fare in quel caso fallire perché quando c'è un problema come dire di problema certamente reale anche in Italia di eccessiva pressione fiscale se questa ti va a mettere con l'acqua alla cuora nel fatto che tu ti trovi con il conflitto di coscienza se pago le tasse fino all'ultimo centesimo non mi avanzano per me che faccio? quindi capite no? quindi è un'imposizione che è dovuta in forza del principio di autorità ma che è soggetta all'equità all'equità l'equità media diciamo così che è stabilita secondo varie posizioni di varie studiosi cioè lo Stato ti può chiedere legittimamente fino a un terzo di quello che è il tuo ma non di più è già tanto perché le tasse non sono ti lascia la tua coscienza se vuoi fare le lemosine non la fai non le tasse bisogna pagare le punte e basta non è che perché se non le paghi ti viene l'ufficiale ti fanno una cartella esattoriale e poi ti viene l'ufficiale giudiziario e te pignora i peni ecco va bene comunque questo per far notare perché molta gente pensa che le tasse sia un argomento De Settimo ma non lo sono De Settimo riguardano i rapporti come dire tra pari interpersonali quindi non il rapporto tra il singolo e l'autorità relativamente all'aspetto diciamo così economico furti usure frodi nei contratti e nei servizi oppure prestare mano a questi danni allora la cosa più frequente i furti penso che siamo tutti quanti consapevoli no? l'usura è un peccato molto grave evidentemente voglio sperare che nessuno delle persone che ascoltino queste case si trovi in queste cose no? però un pochino più frequente sono le frodi nei contratti e nei servizi e io insomma ho fatto in passato un certo tipo di lavoro bisogna soprattutto fare attenzione alle frodi quando capitano che ne so incidenti le assicurazioni oppure che ne so i sotterfuggi per andare a ottenere anche dallo Stato concessioni monumenti queste cose non si fanno quindi la frode quindi il dire il falso per trarne un profitto economico non lo dobbiamo fare è peccato serio e qualora lo si sia fatto dopo andremo a vedere bene il 205 perché è molto importante tutto quello che si è illecitamente percepito bisogna restituirlo o darlo in elemosine io non voglio adesso stiamo facendo una catechesi come dire dottrinale dogmatica quindi non voglio andare a ricorrere all'autorità di una rivelazione privata tra l'altro di una santa mistica ancora non canonizzata no io personalmente tengo molto attendibile Maria Simma e lei ha messo scritti ha lasciato detto guarda che quando ti trovi dall'altra parte anche un centesimo che tu non hai titolo per averlo titolo vuol dire onesto lavoro donazioni ricevute eredità e cose del genere quindi rendite da beni immobiliari tutto quello che è onesto è il nostro signore ti chiede fino all'ultimo centesimo e se non hai riparato te lo chiede in purgatorio così stesso discorso Maria Simma diceva per le messe no quante messe obbligate per 300 non si è andata a messa che ne so per 6 anni 52 domeniche più 8 più 6 sono 58 messe obbligatorie abbiamo l'anno non si è andata a messa per 10 anni sono 50 80 Maria Simma dice ogni messa obbligatoria che hai persa anche se hai confessato sono guai dinanzi alla divina giustizia a meno che non la recuperi quindi mettete in testa che se hai perso 580 messe devi andare a messa 580 volte non essendo tenuto quindi nei giorni feriali non lo vuoi fare e poi te ne farai in purgatorio in maniera un pochino più impegnativa il settimo comandamento inoltre ci ordina di restituire la roba degli altri perché non c'è soltanto il regalo il reato che è anche un reato di furto ma c'è anche l'appropriazione in debita quindi una cosa che mi viene data io me ne approprio e la considero come mia ho i danni colpevolmente arrecati altre cose cioè se a causa mia questa roba anche da codice penale no classico esempio no esco da un parcheggio da una botta a una macchina e io non me ne posso andare perché a cuore io ho fatto un danno sapete tutti quanti che si lascia il numero di telefono sul parabrezza o qualcosa del genere se uno non può stare perché quel danno bisogna bisogna risarcirlo perché me ne posso andare altra cosa importante pagare i debiti meglio non farli i debiti io suggerisco sempre di non fare mai spese o operazioni tali evidentemente se un poverazzo si deve comprare la casa col mutuo questo è un altro discorso questo qui no però come dire imbarcarsi nei debiti è un guaio specialmente poi quando se mi permettete insomma queste cose qui chiaramente vanno anche a finire sul legale no però ve lo dico per esperienze io ci ho lavorato purtroppo tanti anni fa anche con le banche non ci lavoravo io ci lavoravo lo studio dove lavoravo io cioè con le banche diventa un incubo poi perché diventa veramente un incubo quindi e i debiti vanno pagati e attenzione la giusta merceda agli operai non soltanto attenzione se c'è qualche se c'è qualche se c'è qualche persona che abbia dipendenti che non li paga tutto e fino all'ultimo centesimo e manco 30 secondi dopo rispetto al termine fissato passa i guai con la divina giustizia questo vale soprattutto poi per le grandi catene perché io non ho i soldi io ho sentito dire tante volte dipendenti di aziende sono ritratato gli stipendi perché il titolo ha detto non c'è soldi per pagarti non c'è soldi per pagarti vai in banca fai un prestito mi paghi e poi li restituisci alla banca non è che io povero lavoratore dipendente che con quei soldi ci devo mangiare te posso fare da banca hai un'attività figlio mio io sono tuo dipendente prima paghi a me e poi tutto il resto non mi hanno pagato mi dispiace ma non è che se al datore di lavoro non l'hanno pagato non mi hanno lavato non mi hanno pagato e ora paghi tu paga il dipendente e no è una disgrazia che non ti hanno pagato certamente ma guardate attenzione diciamo da ai dipendenti chi non paga ai dipendenti passa i guai grossi con la divina giustizia se lo metta bene in testa grossi e la stessa cosa però vale anche nei rapporti orizzontali cioè io vi invito ad abituarvi cioè se qualcuno fa un lavoro per voi cioè viene un operaio e ti mette a posto la casa finito il lavoro prendi i soldi e lo paghi fino all'ultimo centesimo così vale per tutti l'elettricista che ne so ecco i debiti si pagano cioè facciamo sempre in modo che sull'argomento sterco di satana quindi soldi perché non è tanto difficile lì bisogna essere figlioli miei cari irreprensibili pagamento dei debiti onestà quindi fuggire qualunque tipo di frode non fare i furbetti restituire i soldi stop ecco mi raccomando su questa materia anche perché qualunque sgarro fatto su questa cosa cioè per esempio se a un confessore vanno a confessare che uno ha fatto una frode all'assicurazione per esempio e se è intascato 1500 euro non dovuti questo è tempi nell'ambiente forense ecco chi come dire fa fare i soldi frodando le assicurazioni si paga si chiama in termini di spregiativo molti lo sanno parafangaro ecco questi sono reminiscenze arcaiche tu quei soldi che fai se non li puoi materialmente restituire li devi dare tutti quanti nell'emosina fino all'ultimo centesimo questo vale per qualunque cosa noi abbiamo percepito che non ci spettava nessun titolo specialmente tre volte in cui per fare questo ci abbiamo messo del nostro quindi ce ne siamo accaparrati in qualche modo facendo furbetti pubblici trasporti o cose di questo genere mi raccomando i biglietti si pagano quando si lavora in un posto su questo si sia molto molto scrupolosi faccio le fotocopie non fa nessuna fotocopia le fotocopie le fai se il datore di lavoro ti autorizza a farti delle fotocopie per uso privato e anche quando si è dipendenti statali perché non è che dopo capite dopo uno si lamenta che stanno un sacco di tasse però non è che siccome uno dipendente statale frega tutto col principio siccome questi mi prendono troppe tasse compenso e mi frego tutto faccio 500 fotocopie che ne so adesso con i telefoni cellulari un po' meno ma una volta telefonate fiume dal luogo di lavoro cose di questo genere non si fanno queste cose qui che ne so infermieri che se fregano le siringhe i farmaci non si fanno queste cose qui come pensate i santi come erano il curato d'Arz chi se ne scorda certe cose quando uno legge io ho letto diverse biografie del curato d'Arz la più bella è quella del Trosci se non ricordo male allora che aveva fatto siccome c'aveva un pochino di gente che rubacchiava intorno alla canonica lui dice un albero non mi ricordo di quale frutto si era accorto che qualcuno ogni tanto andava a rubare il frutto e per mandarlo all'inferno in purgatorio sapete che ha fatto ho preso e tagliato a zero l'albero così non mi ruba più nessuno togliamo l'occasione di peccato i santi erano così quindi massima attenzione su questo argomento ricordiamo l'episodio evangelico di Zaccheo Zaccheo ci è andato nostro signore ma do la metà dei beni ai poveri e se ho affrontato qualcuno restituisco quattro volte tanto Zaccheo quattro volte tanto era un eccesso diciamo così di spirito penitenziale ma quattro volte tanto no ma quello che ti sei ingiustamente preso sì lo devi restituire io sconsiglio anche sconsiglio vivamente di appropriarsi di cose trovate in giro insomma è vero che meglio evitare secondo me ti posso mettere un consiglio trovi 50 euro in giro e non sai di chi siano dalle che ne so mettile dentro la cassetta di una chiesa dalle il primo povero che incontri non lo so ovviamente se si trova un portafoglio o robe di questo genere si prende i documenti e si chiama il proprietario cioè mi raccomando amici miei cari quindi facciamo facciamo massima massima attenzione a queste a queste cose se ti accorgi io ho degli esempi di persone che hanno edificato cioè ti accorgi che si è andato al supermercato che ne so scontrino era 15 euro tu gli dai 20 euro adesso non succede più perché ci stanno i pagamenti l'ultima volta che stavano sui supermercati era tanto tempo che non ci andavamo ma so sti cassieri cioè tra carte che strisciano e soldi che comunque si ripie la macchinetta e ti sputa il resto non si possono sbagliare ma se qualcuno si sbaglia cioè perché esiste ancora che ne so il negozietto come dire non ci sono queste queste cose infernali cioè se ti fanno uno scontrino e quel poveraccio cioè è 15 euro tu gliene dai 20 e quello di resto se sbaglia te ne dà 15 anziché 5 se tu ti accorgi ti metti la strada sotto le gambe vai lì e lì ti dai e quando vengono fatte queste cose c'è gente che gli si poteva dà l'olio santo dice mai successo mai vista una cosa del genere perché se hai sbagliato mi metto in tasca no te li metti in tasca non sono i tuoi se non ti accorgi però se ti accorgi oppure non devi fare il furbo devi fare finta di non essere d'accordo tu le devi restituire quelle cose quindi su questa materia è meglio come dire non avere debiti con nessuno dice San Paolo se non quelli dell'amore vicendevole d'accordo? ecco chi potendo non restituisce o non ripara non otterrà perdono anche se a parole si dichiari pentito mitico San Pio X diamo all'ottavo comandamento numero 206 207 208 tre numeri anche per questo che ci proibisce l'ottavo comandamento di non dire non dire falsa testimonianza l'ottavo comandamento non dire falsa testimonianza ci proibisce ogni falsità e il danno ingiusto dell'altrui fama attenzione perciò oltre alla falsa testimonianza la calunnia la bugia noi ne vediamo una per una la detrazione o mormorazione la durazione il giudizio e il sospetto temerario o questi li andiamo a vedere uno alla volta dopo che ci ordina l'ottavo comandamento l'ottavo comandamento ci ordina di dire attenzione a queste parole a tempo e luogo la verità e di interpretare in bene possibilmente le azioni del prossimo 208 chi ha danneggiato il prossimo nel buon nome accusandolo falsamente o sparlandone a che cosa è obbligato chi ha danneggiato il prossimo nel buon nome accusandole falsamente o sparlandone deve riparare per quanto può il danno arrecato amici miei cari qui allora l'ottavo comandamento proibisce ogni falsità per cui la menzogna è sempre peccato anche quando è bugia di scusa e San Tommaso dice anche quando è bugia di scherzo non si dice la bugia nemmeno per scherzo c'è un aneddoto famosissimo no di San Tommaso che a certo punto lui era una persona molto molto riservata molto molto taciturna molto austera no una bella presenza perché sembra che ci avesse qualche non è che era un mangione se non ricordo male lui addirittura faceva una penitenza terrificante nel senso che si mangiava gli avanzi dei frati non so quei tempi dove sicuramente le norme igieniche non è che erano così come oggi era una bella penitenza no ecco vabbè comunque una volta uno studente gli fa uno scherzo e va professore professore c'è un asino che vola l'ho raccontata tante volte quindi probabilmente chi mi segue la conosce San Tommaso che fa? si alza dalla cattedra alla sorbona di Parigi quindi si affaccia dalla finestra e comincia a guardare immaginate il resto degli studenti no quindi da prima i risolini soffocati dopodiché hanno cominciato a sghignazzare e lui proprio non curante di niente guarda dopodiché si sporge guarda bene a destra a sinistra in alto in basso e questi dicono ma questo è proprio scemo questo qua immaginate no lui torna a posto dopodiché fa carissimi ridete pure però oltre che a ridere ricordate una cosa che è più facile che Dio faccia volare un asino che non che dia al vostro amico è permesso di dire una bugia scherzosa ecco voi capite le risa si sono tramutate in gelo d'accordo ecco le bugie non si dicono mai invito i miei amici a farsi un punto d'onore su due punti voi sapete che ogni tanto anche a me povero peccatore ecco le persone dicono voglio diventare tuo figlio spirituale d'accordo e io scherzo sempre prendendo a prestito una battuta di padre mio pur evidentemente vergognandomi perché ci sta soltanto che da vergognarsi insomma perché si tratta di due grandezze incommensurabili non sono degno neanche di baciare l'unghia dell'ultimo dito del piede sinistro di padre mio evidentemente però lui scherzando dice ah sì perché non mi fai vergognare ecco allora un punto d'onore importante è questo essere conosciuti per non dire mai le bugie mai per nessun motivo secondo essere fedeli sempre alla parola data se io faccio una promessa la mantengo e terzo non sporcare mai la bocca con le volgarità queste sono cose se mi posso permettere di rubare un'espressione della Sacra Scrittura a proposito di non rubare sono cose molto gradite a Dio molto gradite a Dio ma altrettanto gradite agli uomini perché Gesù nel Vangelo dice di di non giurare che non è che non si può giurare mai ma perché una persona che dice sempre la verità che bisogna di giurare basta la mia parola è un'offesa se tu mi chiedi di giurare perché io non mento mai questo non toglie che in certe circostanze evidentemente per motivazione di ordine superiore di ordine pubblico possa essere richiesto il giuramento adesso abbiamo già parlato di questa di questa materia ma chi è che deve giurare deve giurare chi deve in qualche modo chiamare l'autorità di Dio a confermare la veridicità di quello che dice o a come dire ti ho promesso questa cosa la farò non serve Dio basta basta la nostra parola quindi questo è il primo aspetto fondamentale di questo comandamento però qui c'è anche il problema del danno ingiusto dell'altrui fama specialmente oggi amici miei nel nel regno dei social qui proprio non lo so quanto purgatorio che ci faremo mi ci metto pure io dentro tutti quanti perché la calunnia è il peccato più grave di tutti più grave di tutti cioè andare ad attribuire a togliere la buona fama al prossimo e mettendo in giro falsità sul suo conto non vorrei fare la vittima insomma ma non avete idea di che repertorio ho già accumulato come dire subito nel corso degli anni cioè delle volte mi viene a raccontare ho sentito dire questa dico aspetta che altro sentito dire veramente proprio delle cose fuori dal mondo d'accordo siccome ogni tanto molti anni fa venivo chiamato anche come dire dai miei superiori e dire se ti do dire questa cosa dico bah che cosa posso dire c'è la mia parola contro quella di quell'altro se ci vuole credere ci creda insomma lei mi conosce faccia lei insomma ecco ma la calunnia è un peccato gravissimo oltre che essere un reato si va dritti dritti in galera per la calunnia in galera non lo so se c'è proprio la calunnia credo di sì credo adesso non mi ricordo il codice penale ma comunque sì ci sono delle multe non indifferenti a sicuro adesso le eminiscenze anche delle pene dittali per i singoli ideali i reati sono un po' troppo sono passati quasi 30 anni insomma rispetto a quando studiavo queste cose però la calunnia e la calunnia va riparata solennemente e con gli stessi mezzi questo vale per tutti questi peccati che adesso vedremo con gli stessi mezzi con cui io ho usato che io ho usato per togliere la buona fama calunniando o semplicemente anche sparlando come vedremo del prossimo ho usato facebook facebook twitter twitter il giornale il giornale è lo stesso giornale oppure l'ho detto ad una persona devo andare da quella persona a dirgli il contrario dire guarda che io questo l'ho calunniato per favore non tenere conto delle cose che ti ho detto eccetera eccetera poi c'è un'altra cosa la detrazione e la mormorazione perché la calunnia è mettere in giro delle cose false la detrazione e la mormorazione è mettere in giro delle cose vere così gratuitamente allo scopo di danneggiare la buona fama del prossimo è la maldicenza gratuita su questa materia ci sono delle volte in cui ci si trova costretti a dover rivelare qualche cosa di non buono del prossimo ma perché per evitare un danno maggiore o per l'edificazione altrui faccio un esempio se io vado in un negozio e mi frodano quindi mi vendono un prodotto difettoso io glielo riporto e dico guarda sto coso è difettoso mi rida i soldi lo cambiamo non vuoi sapere niente è chiaro che se io ho un amico che mi dice voglio andare a comprare quella cosa lì gli dico che faccio è maldicenza se gli dico guarda che se fosse in te no non è maldicenza perché voglio evitare che questo mio amico ci ricaschi no ecco però non è necessario oppure opportuno andare a mettere queste cose in gira ai 420 no ecco non so se se mi spiego qui purtroppo bisogna fare delle valutazioni molto molto attenti in ogni caso è sempre meglio se possibile evitare c'è anche però il peccato dell'adulazione ah dell'adulazione gli adulatori si chiamano nel linguaggio comune non lo so se si può dire se un sacerdote può dire o lo potrà dire lecchino ecco i classici porta borse quindi quelli che che adulano adulare che significa significa far credere a qualcuno di essere chissà chi o chissà o chissà che cosa quindi falsamente riconoscendogli grandezze e titoli che che non ce l'ha e magari anche ostentando questa cosa l'adulatore figlioli miei cari è uno degli esseri insieme al traditore per quanto mi riguarda e anche al al detrattore quindi alla carogna insomma che ti parla dietro le spalle queste sono cose particolarmente spreggevoli da un punto di vista oggettivo poi certamente riguardo alla persona preghiamo sempre per la conversione ma da un punto di vista oggettivo sono delle cose molto spreggevoli o poi il giudizio temerario ma anche il sospetto temerario dice il catechismo cosa vuol dire il giudizio temerario il giudizio temerario vuol dire attribuire ad una persona che è quello che è proibito categoricamente dal Vangelo non giudicate è attribuire ad una persona cattive intenzioni gratuitamente o sulla base di semplici sospetti allora noi non dobbiamo sospettare niente di male neanche sospettare niente di male di nessuno a meno che non ci siano delle motivazioni oggettive d'accordo qui gli esempi si potrebbero nella versione al positivo l'ottavo comandamento ci ordina oltre che di dire adesso vedremo a tempo e luogo la verità per terminare il discorso sulla giudizio sospetto temerario di interpretare in bene possibilmente le azioni del prossimo il sospetto e il giudizio temerario sono note diciamo così nel linguaggio comune come persone maligne quelle che stanno sempre a vedere il male che ne so vedo uno che ne so che si è comprato la macchina nuova primo esempio sciocco mi viene in mente eh sì chi lo sa andola piati i sordi chi lo sa che magheggia ha fatto per andare a comprare sta macchina ma chi te l'ha detto perché devi andare a pensare in questo modo può essere quella macchina gli hanno regalata no tanto per di una cosa quindi meglio guardate figlioli mi cari è meglio astenersi cioè riguardo gli affari del prossimo meno ci pensiamo e meglio è è sempre preferibile fino a dove è possibile avete visto come si dice stendere un velo pietoso il figlio di Noè quando vide il padre ubriaco e quando egli ha mise un telo addosso e basta anche qui ci possono essere circostanze in cui purtroppo ecco purtroppo non è possibile fare una cosa di questo genere sapete sapete che credo che è attribuita ad Andreotti la famosa frase giudicare si fa peccato ma raramente si sbaglia perché delle volte ecco però delle volte non cioè è necessario essere un pochino intelligenti un pochino attenti cioè quando il sospetto non è temerario ma è fondato tenendocelo per noi perché altrimenti si cade nel difetto opposto che è l'ingenuità io non è che posso diventare cretino d'accordo o non o non starci con con la testa quindi il sospetto è peccato quando è temerario cioè quando è completamente gratuito quando io non ho nessun motivo di sospettare una cosa non buona del prossimo e lo faccio come dire a priori appunto proprio senza nessun fondamento ma possono succedere delle possono capitare delle 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 circostanze in cui il sospetto è più che lecito no se trovo una persona che sta facendo l'emosina che ha due occhi con le pupille dilatate e che e che parla che che me me mi dai due spicci e sospettare che con quei due spicci vada a bere o si vada a drogare è un sospetto non temerario quasi doveroso e se non faccio quel sospetto fatto quel sospetto che cosa dovrò fare? Devo astenermi dal dare i soldi a chi c'è il serio sospetto da quello che vedo che vada a comprarsi una dose o a farsi un bicchiere di vino lo capite no? provate in queste circostanze a fare sempre il sistema che è infallibile ti accompagni al bar e ti compro io un panino e te lo mangi davanti a me però perché delle volte sapete cosa fanno? tutto c'è sta nel repertorio quando si vedono smascherati quindi vanno a farci comprare questo panino dopo di che escono e lo buttano al secchio io di tutto ho visto nel corso della mia esistenza quindi vabbè questo per far capire un po' quindi interpretare possibilmente sempre in bene le azioni del prossimo è chiaro che fin dove è possibile perché ci sono tante circostanze in cui non è possibile e ripeto l'osservanza di questo comandamento non può mai diventare tapparsi volontariamente gli occhi o cadere nell'ingenuità questo non si può fare perché purtroppo a volte il male ci si para dinanzi in maniera abbastanza evidente e tapparsi gli occhi quindi non volerlo vedere o dissimularlo diventa un po' troppo poi ora attenzione l'ottavo comandamento diciamo non si può mentire mai quindi come faccio in certe circostanze sentite bene ci ordina di dire a tempo e luogo la verità tempo opportuno luogo quindi al momento opportuno che vuol dire non sempre e non in ogni caso al luogo opportuno attenzione la verità cioè non tutta la verità non mentire mai non significa dire sempre sempre cioè vedete il luogo tutto e a tutti non si deve dire né sempre né tutto né a tutti capite io quello che dico le persone dico guarda se io ti dico una cosa quello che ti dico è vero ma non è detto che sia tutto perché in alcuni casi tutto non si può o non si deve dire l'importante è che quel poco che si dica sia vero ok e questo si impara piano piano a tempo e a luogo la verità chi ha danneggiato il prossimo nel buon nome accusandolo falsamente o anche sparlandolo sparlandone deve riparare per quanto può il danno arricato perché ce sta per quanto può ricordiamo sempre l'aneddoto l'altro aneddoto di un altro grande santo che era San Filippo Neri quando gli andarono a confessare che uno che aveva fatto il peccato di maldicenza o di calunnia adesso non mi ricordo lui gli dice come la penitenza adesso devi comprare una gallina la spegni dopodiché vai in giro per Roma e butti in giro tutte quante le piume sta scherzando padre no no devi fare questa penitenza poi devi tornare da me questo fa sta penitenza dice bene adesso ti do la soluzione però come penitenza devi andare in giro a raccogliere tutte quante le penne che hai sparso in giro per Roma e il penitenza ti ha risposto padre abbia pazienza io già mi sono mortificato a fare questa cosa qui ma quello che mi chiede adesso è veramente impossibile pur con tutta la buona volontà e pur volendo umiliare ancora come faccio ad andare a recuperare tutte le penne chi lo sa che fine hanno fatto e lui dice come le chiacchiere tue perché una volta che noi facciamo una chiacchiera su una persona io su questo anche potrei scrivere un'enciclopedia tu vai a mettere in giro una chiacchiera vera o falsa sul prossimo e parte il tant'anno e parte adesso poi con i social è la fine è la fine e quelle penne spennate chi le va a raccogliere? e il nostro signore che cosa ci chiederà? conto cioè non dobbiamo pensarci tu adesso non te ne rendi conto immaginati se tu per una chiacchiera che hai fatto hai rovinato una persona perché parte da te ma poi è stata come dire amplificata e si è sparsa e quella persona si è mezza rovinata e quando mori che ti torna dinanzi al nostro signore tu pensi che il nostro signore non te lo farà vedere questa cosa qui? certo che io penso di sì vedi tu hai fatto quella cosa guarda poi che è successo sarebbe meglio che ci pensiamo noi prima evitare evitare Gesù non ha già detto benedite quelli che vi male dicono qualcuno parla male di te tu parla bene di lui e la regola che davano i santi se puoi parlare bene di qualcuno bene altrimenti silenzio sempre a meno che non ricorrano quelle famose circostanze che lì poi è impossibile prevedere in maniera generale e astratta tutti quanti i casi e lì bisogna aprammarci di sano e santo discernimento passiamo al nono comandamento così vorrei forse c'è tempo speriamo finire per questa volta che cosa ci proibisce il nono comandamento non desiderare la donna ad altri il nono comandamento non desiderare la donna ad altri ci proibisce i pensieri e i desideri cattivi che cosa ci ordina il nono comandamento il nono comandamento ci ordina la perfetta purezza dell'anima ed il massimo rispetto anche nell'intimo del cuore sentite che grande papa per il santuario della famiglia quindi i pensieri e i desideri cattivi sono proibiti e il concilio di Trento per chi non lo sapesse dice esplicitamente che sul nono comandamento si può peccare mortalmente mortalmente perché un desiderio impuro è peccato mortale se è consentito come dice Gesù nel Vangelo se uno guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore così come pensare volontariamente a qualche cosa di osceno così come anche guardarlo volontariamente no? qualcosa di osceno anche qui figlioli miei cari io lo dico perché non ho paura di dire le cose anche le persone sono sposate io sono sposato quindi non è che sono conosco certe cose si conosci certe cose nell'ambito della tua famiglia di tua moglie di tuo marito ma fuori di questo ambito tu sei come me non è che siccome tu conosci certe cose c'è il film dove ci sono le scene di sesso esplicito ah vabbè ma io tanto queste cose le so le vivo perché sono sposato e quindi lo posso vedere tranquillamente non funziona così amici non funziona così non le posso vedere io ma la può vedere nessuno e se me ci imbatto in un film bene adesso abbiamo i telecomandi in mano quasi tutto in streaming manda avanti e se non poi manda avanti cambia canale spegni dopo riaccendi ma abbiamo interesse vedere la fine spegni e poi riaccendi dobbiamo difenderci in qualche in qualche modo siamo in una evidentemente in un contesto sociale che è altamente corrotto su queste su queste su queste materie quindi le difese devono essere alzate ma il massimo la perfetta purezza dell'anima beati puri di cuore ha detto Gesù perché vedranno Dio purezza che vale per tutti purezza che chiaramente è custodita con la perecondia e con la modestia mi sa che ne abbiamo già parlato di queste cose qui le signorine facciano sempre estremissima attenzione ecco perché i desideri e i pensieri impuri possono avere a chiunque ma sappi che se tu esponi il tuo corpo sicuramente sicuramente a qualcuno i pensieri e i desideri verranno 100% se va bene i pensieri e i desideri se non va peggio e chiediti non lasciare che te lo dica io se il nostro signore se per il nostro signore è tutto ok cioè se quando andrai dall'altra parte il nostro signore non ti chiederà dice ma quello era un impuro sì certamente ma è stato un impuro utilizzando come occasione te allora se quello è come dire un come si dice un un impuro patentato quindi una persona che non è capace di guardare il prossimo se non concependo pensieri impuri e quindi lo fa lo fa comunque dice lo fa ma io aguzzi la fantasia perché non c'è niente da fare non c'è niente da da fantasticare per quanto per come io mi presento ma se invece come io mi presento gli offre già il soggetto di meditazione capite che la cosa è del tutto differente il peccato certamente è della persona ma chi lo ha provocato ne è in qualche modo subordinatamente ma in qualche modo anche lui reo non è innocente il rispetto del santuario della famiglia santuario e anche qui l'educazione che si dà ai figli fin da quando sono piccoli alla modestia e al pudore voi dentro casa ecco perdonatevi se sono molto molto esplicito andare in giro nudi non si fa ma quello è piccolo quello è del bambino non capisce niente ma andare in giro i bambini nudi pure nelle spiagge non si fa è chiaro che il bambino non capisce niente quindi non è che interpreta quel gesto maliziosamente ma non è educativo non va bene decimo ed ultimo comandamento che ci proibisce il decimo comandamento a non desiderare la roba d'altri il decimo comandamento non desiderare la roba d'altri ci proibisce l'avidità sfrenata delle ricchezze senza riguardo ai diritti e al bene del prossimo e che ci ordina il decimo comandamento il decimo comandamento 212 ci ordina di essere giusti e moderati nel desiderio di migliorare la propria condizione di soffrire con pazienza le strettezze e le altre miserie permesse dal Signore al nostro merito poiché al regno di Dio dobbiamo arrivare per via di molte tribolazioni è spettacolo amici allora quando l'avidità delle ricchezze capite diventa sfrenata non credo che sia difficile capire che qui si va nel penale quindi che si pecca mortalmente si può peccare mortalmente anche sul decimo comandamento se chiaramente non c'è la misura no? se io vedo una persona gli auguro il male dice ah si è comprato si è comprata la Ferrari ah pozza pozza fa un incidente se uno dice una cosa del genere secondo voi è peccato veniale oppure ah la realtà ha preso tutti quei sordi pozza nannaglie tutti in medicine sono espressioni che si sentono dire peccato veniale quindi la cosa fondamentale vedete non è che noi dobbiamo aspirare alla miseria no o necessariamente abbracciare la povertà volontaria no non sono cose prescritte possiamo avere un desiderio giusto e moderato di migliorare la mia condizione di avere una vita dignitosa di avere una bella casa di avere un lavoro decoroso di vestirmi decentemente si senza stare a guardare e invidiare il prossimo si si può fare se il signore te lo concede e se invece il signore non te lo concede che ti chiede un momento di precarietà di difficoltà di ristrettezze che facciamo se siamo figli di Dio lo accettiamo e lo accogliamo con amore lo soffriamo con pazienza perché è Dio che dà l'abbondanza in certi momenti o meno abbondanza e a volte anche lo stretto proprio stretto necessario e a volte proprio la precarietà lui dispone le cose a seconda di quello che reputa bene per la sua creatura i libri sapiensari dicono che preghiera ispirata a sapienza è non darmi né l'abbondanza né l'indigenza ma il giusto è necessario per una vita dignitosa e decorosa diciamo che non è escluso che i figli di Dio possano avere anche un sacco di soldi o scusate se sono condizionato sempre dal recente pellegrinaggio di padre Pio quella che diventò una delle più strette il braccio destro di padre Pio Maria Pile era una miliardaria la chiameremo oggi americana proprio miliardaria costruito dei complessi enormi quindi ma è era una santa donna era una figlia spirituale di padre Pio tutti quanti quel patrimonio che c'aveva una cosa molto rara ma non non impossibile viva Dio se il Signore desse un bel po' di soldi a un po' di figli di Dio che li sanno gestire come Dio comanda no? per fare tanto del bene perché in questa vita servono queste cose il miglior amico di Gesù non dimentichiamolo figlio dei miei cari che era Lazzaro di Teofilo era ricco sfondato andate a vedere negli scritti di 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 Maria Valtorta l'episodio grazioso del dialogo tra Gesù che lei però non sapeva che era Gesù e Maria di Magdala al momento della risurrezione allora che comincia a dire l'hai portato via tu guarda che io sono Maria di Magdala io sono la figlia di Teofilo noi abbiamo un sacco di soldi ti posso riempire d'oro cento volte tanto quanto lui pesa basta che mi dici dove sta una cosa del genere gli dice era la sorella di Lazzaro sempre secondo gli scritti di di Maria Valtorta la custodia della vita della Madonna post ascensione Lazzaro gli ha lasciato una casetta in una tenuta enorme nel nel monte degli degli ulivi dove stava con San Giovanni dove lei poteva stare riparata riservata protetta e c'è anche però un come dire un ambiente un po' di bosco dove andare a farsi qualche passeggiata in giro Lazzaro era miliardario poi è diventato vescovo ed è morto martire però era miliardario e non era certamente uno che bramava sfrenatamente le ricchezze né che ne ha fatti usi cattivi le ricchezze non sono un male in sé certo come dice Gesù nel Vangelo ammonisce è pericoloso sono cose pericolose perché è molto difficile trovare una persona che abbia molte ricchezze e che ne abbia distaccato il cuore e che sappia amministrarle come Dio vuole bene amici San Pio X mi perdonerà dei limiti ecco di questa trattazione abbiamo terminato i comandamenti con la prossima volta non è ancora finita l'aspetto morale perché ci sono anche i precetti della chiesa e poi ci faremo un bel ripasso delle virtù ci sono prima le virtù cardinali e poi le virtù terogali poi le virtù cardinali poi i vizi quindi la parte diciamo così morale del catechismo non termina col decimo comandamento ma ci aspettano appunto gli step dei precetti della chiesa delle virtù e dei vizi poi ci sarà la terza parte che sono i mezzi per la vita di grazia quindi i sacramenti la preghiera eccetera andiamo avanti come Dio vuole con il suo aiuto Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga alla prossima puntata del carico che c'è un'altra parte e la prima volta che c'è un'altra parte